Buongiorno da WTV News. Oggi 5 ottobre Santa Faustina Kowalska. Il 5 ottobre si celebra il World Teacher Day, la giornata mondiale dell'insegnante istituita dall'UNESCO nel 1994 per ricordare quel 5 ottobre del 1966 durante il quale furono sottoscritte le raccomandazioni sullo status dell'insegnante. L'evento ricordato da World Teacher Day riguarda l'incontro internazionale avvenuto a Parigi il 5 ottobre del 1996 che servì a definire caratteristiche, condizioni professionali e scopi di ogni insegnante del mondo. Fu un momento di svolta, un passo decisivo nell'affermazione dei diritti e dei doveri di chiunque ricopra il ruolo di docente. Il documento comprensivo di 145 articoli sancima infatti tutti gli elementi indispensabili per il corretto svolgimento della professione, livello di preparazione, principi guida, strumenti didattici, responsabilità previste, condizioni di lavoro, retribuzione e ferie, perfino le eventuali sanzioni disciplinari. Insomma, un vero codice per riconoscimento dello status di insegnante. Purtroppo il risultato della conferenza di Parigi non ebbe mai carattere vincolante e ancora oggi in molti paesi parecchi degli aspetti contenuti nelle raccomandazioni vengono disattese. Grazie